Non è stato facile trovarvi all'interno della sicurezza del corpo diplomatico, ma poi il mio vicino contatto ha saputo indirizzarmi a voi. Il contatto ha iniziato a muoversi, quindi lei mi sta dicendo che un solo uomo è l'artefice di questo capolavoro? Sappiamo inoltre della nostra fonte che Fuentes si serve del servizio di José Armando Gutierrez. Avrei dovuto immaginarlo che si trattasse di qualcosa di grosso. I contatti sono questi, ora tocca a voi andare là e rivoltarli. È stato prelevato un mio prigioniero nel mio campo al confine irachiano. Fuentes, dalle immagini, fino al 11 settembre ha raccogliato la DEA, gestisce il più grande traffico d'armi dall'ex Unione Sovietica in Panama. Io ti chiedo soltanto che gli stessi contatti ci diano una mano. Chi era nella squadra con voi? Andrò da solo. Lo devo a tuo fratello, se non fosse per lui, oggi non sarei qui. Pensi che sia la scelta migliore? Sì, sarà la passeggiata. Le organizzazioni delle Nazioni Unite temono per una presunta amenazza terrorista che possa daire il canale di Panama. Questo non è un semplice colletto bianco, ma un agente scelto alle mie dipendenze. Qualsiasi cosa faccia lui deve passare per me. Cosa faremo noi? Personalmente ritengo opportuno per un'infiltrazione il sottoscritto e il capitano Santos. Ma mi rendo conto che ci servirà anche uno che ci guida dall'esterno. Ed ecco perché ho pensato a... O'Neill. Boss. E noi saremo... DJ, niente di conoscerla. Piacere. Kublai, Nigel Kublai. Avremo il piacere di lavorare per Elena Dominguez, moglie di Juan Carlos Fuentes. Il gioco è semplice. Noi portiamo il carico dal punto A, obiettivo in avvicinamento, al punto B. Trasportiamo uno della CIA? Non dischiamo mai che il nostro cliente venga compromesso. E come fate ad eludere il controllo del tuo canale al giorno d'oggi? Non ulti anni per arrivare al livello dove siamo. Che giornata di merda. Recupero l'itario tra sette minuti. A questo punto saranno tutti qui però. Parlo del modo in cui sono state uccise queste persone, roba da professionisti. Rossi, quindi gli spari provengono da quella direzione, da quella parte? Sì. Avete controllato se c'è qualcuno all'interno? Abbiamo suonato ma non ha risposto nessuno. E i Corrieri? E il Nigal? Che ti importa? Lo veo come te guarda. Lo veo come te guarda. Non fare la putà con me. Sono uno, torna Eagle Strike, passo. Eagle Strike, muovetemi. Siamo compromessi? Siamo tutti in pericolo. Io, tu, tutti. Non ne leggo più! Io, Enrique González, le assicuro che non hai niente attacchi terroristi in corso. Siamo tutti in pericolo. Siamo tutti in pericolo. It's called by